Amici, adesso andiamo a trovare un nostro carissimo amico che si occupa dei tour panoramici attraverso la natura e la storia dell'isola di Vulcano. Seguitemi, lui si chiama Luigi. Luigi, che bello ritrovarti ogni anno qui al posto giusto, al momento giusto. Ciao, come stai? Bene. Bene. Allora, questo tour panoramico oggi mi porterà in giro per l'isola, spero, come fai sempre. Sì. E cominciamo da? Con la Valle dei Mostri, direi. La Valle dei Mostri, rimanete con noi. La Valle dei Mostri, rimanete con noi. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, cause you know what I'm saving, ooh Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya drink, Swalalala, Drink Swalalala, 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 Swalalala Freaky Freaky, yeah My Freaky Freaky